Buongiorno, oggi ad Atlantide Viaggi seguiremo un'avventura in Amazzonia. Incontreremo sciamani e racconteremo i loro riti spirituali e le loro visioni mistiche, stimolate dall'utilizzo di estratti vegetali psichedelici. Ma prima di affrontare il viaggio, vale la pena documentarci con un po' di storia. Il primo a discendere il rio dell'Amazzoni fu il conquistador spagnolo Francisco de Orellana. Partì da Chito, sulle Ande, attorno al marzo del 1541. Lungo il fiume costruì delle navi, come racconta questo dipinto. Attraversò tutto il bacino dell'Amazzonia e dopo 18 mesi nell'agosto del 1542 raggiunse l'Oceano Atlantico. Un viaggio pazzesco. Tornato in Spagna raccontò al re di feroci combattimenti contro donne guerriere e per quel motivo il re volle battezzare il fiume Rio delle Amazzoni. Ma secondo alcuni gli spagnoli non incontrarono mai donne guerriere, ma ero semplicemente confusi dall'aspetto dei nativi. Senza barba, con acconciature simili tra uomini e donne, come dimostra quest'acquarello dell'Ottocento. In ogni caso la leggenda delle Amazzoni un fondo di verità ce l'ha, perché come scopriremo nel nostro viaggio in compagnia dell'antropologo Wade Davis, le donne, sia divine che umane, hanno un'importanza fondamentale tra i popoli del fiume. Per secoli, un antico popolo ha vissuto nel cuore della foresta pluviale. Potrebbe essere il discendente della perduta civiltà amazonica. Nei loro rituali attraversano regni che difficilmente possiamo immaginare. Quella che noi vediamo come una cascata, per loro, è la dimora del creatore del mondo. Mi dirigo nel cuore della foresta per incontrarli e, se possibile, per imparare a vedere il mondo, coi loro occhi. Mitu, in Colombia. È una cittadina al confine settentrionale della foresta pluviale amazonica. Sono stato qui per la prima volta 33 anni fa, per studiare le piante usate dagli indiani. All'epoca, feci una breve visita a un'antica cultura, forse discendente di una civiltà perduta. La visione del mondo di questo popolo era considerata una delle più complesse e sofisticate dell'Amazzonia. Dopo tutti questi anni, sono tornato per raggiungere un vecchio amico, Martin von Hildebrand, un grande antropologo colombiano che non ha mai smesso di lavorare con questo popolo. Martin ha invitato me e la mia squadra a viaggiare con lui nella foresta colombiana per raggiungere il fiume Piraparanà. Qui visiteremo siti che pochi altri stranieri hanno visto. In questa zona vivono quattro popoli imparentati tra loro. I nostri ospiti appartengono a uno di questi. Si chiamano Ibarasana. Negli ultimi trent'anni, in tutto il bacino amazonico, sono sorte cittadine come Mitu. L'influsso degli stranieri ha causato la scomparsa di molte popolazioni indigene. Ma Martin mi dice che questo non è successo ai Ibarasana e ai loro vicini. Per tutta la vita, ha lavorato per garantire al popolo dell'Amazzonia colombiana il diritto alla terra. Una terra dove possono preservare le loro tradizioni e i loro stili di vita. Il popolo di Piraparanà esprime la sua fede con elaborate danze rituali. Il nostro obiettivo è partecipare a uno dei rituali più sacri di questo popolo. Ma per prepararci alla cerimonia, il popolo del fiume ha deciso che dobbiamo affrontare una serie di viaggi. In volo con noi c'è Riccardo Marin, uno degli uomini del fiume che ci guideranno durante il viaggio. È uno sciamano Barasana, perfettamente addestrato per muoversi tra la dimensione materiale e quella spirituale del suo mondo. Riccardo ci dice che per lui le montagne, i fiumi e le cascate sotto di noi sono sia luoghi fisici che siti sacri. Il paesaggio racchiude la saggezza dei suoi antenati. So che sto per entrare in un mondo e conoscere persone che difficilmente riuscirò a comprendere del tutto. La vera sfida sarà guardare le cose con i loro occhi e cercare di condividere le loro esperienze più profonde attraverso i riti. Quando arriviamo a San Miguel, il villaggio di Riccardo, veniamo convocati nella casa tribale, la Maloca. Qui cominciamo a conoscere questo popolo e ci confrontiamo sul piano di lavorazione del film. I membri di H.I.P., l'associazione che comprende i quattro popoli del fiume, parlano ognuno nella loro lingua amazonica. È il momento di mostrare agli uomini bianchi che rispettiamo i nostri antenati e che ci prendiamo cura del mondo. Devono sapere che non vogliamo che danneggino le nostre foreste e i nostri fiumi. Dobbiamo aiutare queste persone che devono fare il film. Bene, grazie a tutti. Come alcuni di voi sappiamo, hace mucho tiempo, quando ero joven, io llegué aquí, a ese mismo Maloca, nel año 1977. Col mio spagnolo sgrammaticato ho espresso la nostra gratitudine per essere stati accolti qui e per avere la possibilità di imparare da loro. Grazie. Il nostro obiettivo è riprendere la prima cerimonia del ciclo annuale di riti che avrà luogo tra qualche settimana. Nel frattempo, posso osservare un rituale più modesto qui a San Miguel. I miei ospiti si offrono di guidarmi durante tutto il processo. Mi dicono che questa è la prima danza che celebra l'avvento della stagione secca. È un periodo florido perché i frutti e i raccolti maturano nella foresta e nei giardini. Gli uomini indossano i loro copricapi di piume migliori. Li considerano degli oggetti sacri tramandati dai loro antenati. tra una danza e l'altra mi offrono la ciccia una bevanda a base di latte fermentato. Gli uomini non hanno mangiato nulla durante il giorno e inalano tabacco e polvere di coca il cibo spirituale del rito. Quando si avvicina la mezzanotte consumano lo yahe chiamato anche ayahuasca la vite dell'anima. Contiene potenti sostanze chimiche allucinogene che producono visioni caleidoscopiche allucinazioni che trasformano la percezione del tempo e dello spazio. La danza prosegue per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba. La grande cerimonia che si terrà tra qualche settimana sarà dedicata alle donne. Nota come la danza del pane di manioca è una sorta di festa del raccolto che celebra l'alimento base dei popoli del fiume. Questa grossa radice è la manioca amara. Cresce facilmente ma quando spunta dal terreno è velenosa. Allo stato naturale contiene abbastanza acido prussico da accecare o uccidere un uomo. 3000 anni fa le donne del bacino amazonico scoprirono come rimuovere il veleno e trasformarono una pianta letale in un alimento nutriente e vitalizzante che è alla base della loro alimentazione. Qui, nell'Amazonia settentrionale le donne grattugiano le radici di manioca poi lavano la poltiglia per rimuovere il veleno e far uscire l'amido che contiene. svolgono queste operazioni nella maloca la casa tribale il centro sociale e spirituale del mondo dei popoli del fiume. Il pane di manioca è il fulcro del grande rituale che sta per svolgersi ma è anche il cibo che mangiano ogni giorno durante la colazione collettiva. Quella del pane è una mitologia universale è il nostro pane quotidiano è cibo ma è anche metafora del nutrimento spirituale. Mentre mangiamo lo sciamano Riccardo contatta gli spiriti ancestrali chiede che ci permettano di viaggiare controcorrente per visitare i luoghi più sacri dell'universo dei popoli del fiume. Secondo i loro miti i Barasana hanno avuto origine lungo il rio delle Amazzoni. Poi hanno compiuto un viaggio epico controcorrente che li ha portati nelle attuali dimore. Ora tocca a noi ripercorrere i loro passi verso la sorgente nel cuore della foresta. In questo viaggio avremo come guidero Bertico e Rosa la sorella dello sciamano Riccardo. Rosa ci porta in un sito sacro a tutte le donne un luogo che ha una dimensione sia fisica che spirituale. Qui durante il viaggio ancestrale noi donne abbiamo ricevuto la magnoca e abbiamo imparato a preparare il pane. È stato il dono di un'anaconda gigante che viveva sotto la cascata. Guarda quella roccia dietro c'è un buco era là che tenevano l'amido giusto? La roccia è la donna che canta all'amido che canta nei riti e che troveremo anche nel rituale quando arriveremo lassù. Per Rosa questa roccia è anche uno spirito la donna della magnoca apparirà sotto sembianze umane nel grande rituale. Mentre il viaggio prosegue le mie guide mi spiegano che i popoli del fiume non credono in un solo dio. gli esseri soprannaturali esistevano prima della creazione degli uomini. Alcuni erano eroi altri erano demoni e a volte si scontravano. A monte delle cascate di Cassava c'è un sito dove ebbe luogo una di queste battaglie. Un demone potente bloccò il sentiero degli antenati che risalivano a monte ma arrivarono quattro eroi gli Aiyawa i tuoni. Senza farsi vedere i tuoni superarono il demone e lo scaraventarono nella roccia. Era un essere maligno era il signore di questa terra controllava tutto e non voleva nessun altro qui. è una storia che narra di eroi che portano ordine nel caos e creano una civiltà giusto? Esatto e permettono agli uomini di questo mondo di convivere con la natura. Gli esseri umani arrivarono in questo mondo dopo gli eroi culturali che avevano preparato il mondo affinché l'uomo potesse vivere nella natura. I demoni non avrebbero permesso agli esseri umani di vivere in questo mondo. Dicono che non bisogna guardarlo molto perché può fare male. Che facciamo adesso? non possiamo restare molto tempo dobbiamo andare non vogliono fermarsi troppo qui perché è pericoloso non è bene fermarsi in questo luogo ma durante il rituale il paillet lo ha sanato ha parlato a questi spiriti e ha detto è tutto a posto ho parlato con loro potete andare a vederli ha chiesto loro il permesso di farci venire qui a guardare. Anche se l'ordine ha avuto la meglio sul caos qui avvertono ancora la presenza del maligno. Il popolo del fiume sostiene che questo petroglifo non fu fatto dagli uomini e non ci sono altri disegni come questo lungo i loro fiumi ma sono simili ai motivi che ho visto sulle terre cotte delle civiltà perdute dell'Amazzonia. Per secoli le civiltà perdute dell'Amazzonia sono state considerate leggenda dell'introvabile e mitico e il dorado invece una scoperta recente ne ha confermato l'esistenza. Nel gennaio 2010 le foto satellitari su un'area colpita da deforestazione hanno scoperto queste grandi trincee scavate seguendo linee geometriche e all'interno di queste trincee gli archeologi hanno trovato oggetti e ceramiche che risalgono addirittura al 200 d.C. La deforestazione ha rivelato una civiltà perduta. La stessa deforestazione che però rischia di far scomparire quel poco che ne è rimasto. Sappiamo che 500 anni fa il bacino amazonico era densamente popolato. Milioni di persone vivevano in grandi villaggi e città lungo il fiume. Erano società complesse con capi regionali e locali sacerdoti guerrieri e cittadini comuni. Le grandi civiltà dell'America del Sud come gli Inca hanno lasciato la loro eredità maestosi monumenti in pietra. hanno superato la prova del tempo ma i popoli amazonici costruirono i loro insediamenti con legno e la paglia. Era un'architettura monumentale ma non durò. La loro civiltà non lasciò quasi traccia. In prossimità delle sorgenti alcuni popoli isolati come i Barasana costruiscono ancora strutture molto elaborate. oltre le barriere formate dalle cascate e dalle rapide la vita è rimasta indisturbata fino ai primi anni 60 del secolo scorso quando arrivarono i missionari cristiani. La mia esperienza mi segna che generalmente questo porta al rapido collasso della cultura tradizionale. Mi chiedo quindi cosa sia successo qui. Il premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Losa ha raccontato in molti suoi romanzi come le missioni anche se in buona fede abbiano sgretolato le comunità dei nativi costringendoli ad abbandonare le foreste e ad andare a vivere nelle città in una condizione di semi schiavitù un fenomeno triste che dura per gran parte del Novecento. Tra poco vedremo come i popoli del fiume siano riusciti a salvarsi. Il nostro viaggio continua. Ad Atlantide Viaggi stiamo seguendo un'avventura lungo i fiumi del bacino amazzonico e stiamo per affrontare un capitolo molto delicato il rapporto tra i nativi e i missionari cristiani. Le missioni dei gesuiti in Amazzonia nel Seicento e nel Settecento rappresentano una speranza per gli indios a cui veniva insegnato a leggere e scrivere a cui veniva data la proprietà legale della terra e che venivano difesi dall'avidità dei coloni e dalla schiavitù. Questi dipinti dell'epoca in cui si vedono gli indios che si arrampicano sugli alberi per raccogliere miele che vanno a caccia che attraversano i fiumi con i gesuiti raccontano l'integrazione tra i missionari e le culture locali. Un momento storico diventato famoso grazie al film Mission con Jeremy Irons e Robert De Niro. Ma se le missioni a volte sono state una difesa per le genti locali altre volte invece sono state una minaccia. L'imposizione di un'altra lingua di un'altra religione hanno spesso significato la fine di quelle culture. ora però nel nostro viaggio vediamo come si sono comportati con i missionari i popoli dei fiumi colombiani. L'arrivo dei missionari in Colombia lungo il fiume Pira Paranà fu un'autentica minaccia per la popolazione locale. Per la prima volta degli stranieri si insediavano stabilmente nella regione. Quando i missionari e i preti arrivarono qui i Barasana conoscevano il motivo del loro arrivo. Quando arrivarono i missionari sapevano che in qualche modo li avrebbero trasformati in persone perché sapevano che secondo i bianchi gli indiani non erano persone. Non capivano bene cosa sarebbe successo ma era questo quello che sentivano. Li avrebbero trasformati in qualcosa li avrebbero modellati come esseri umani secondo l'idea dei bianchi. Più o meno nello stesso periodo all'inizio degli anni 70 i Barasana e i loro vicini divennero i protagonisti di un documentario inglese La guerra degli dei. Mostrava i bambini indiani nei convitti delle missioni mentre venivano indottrinati secondo le regole del mondo cristiano civile. Nello stesso periodo una giovane coppia britannica gli antropologi Stephen e Christine Hugh Jones stavano studiando i Barasana. Christine riteneva che avessero già una loro civiltà. Penso che nessuno sia stato capace di vedere che questi indiani hanno una civiltà e per civiltà intendo l'opposto dello stato primitivo. sotto molti aspetti si tratta di una civiltà complessa come la nostra. La coppia ha trascorso due anni con i Barasana e si è immersa completamente nella loro cultura imparando a parlare alla perfezione la loro lingua. Ma all'epoca entrambi erano convinti che le tradizioni dei Barasana sarebbero state annientate dalla pressione dei missionari. Sono pienamente coscienti che tutto il loro mondo si sta estinguendo. Il problema è che i missionari vengono da una cultura più forte e sono molto più convinti di detenere la ragione. Per questo sono destinati a vincere. Ma Riccardo e il suo popolo avevano capito che la conversione al cristianesimo significava la morte della loro religione. Niente copricapo di piume niente più danze o rispetto per gli antenati. era un prezzo troppo grande e non erano disposti a pagarlo. Così nel 1976 dissero ai missionari di andarsene. All'epoca Martin era vicino ai popoli del fiume che lottavano per riprendere il controllo delle loro terre e del loro destino. Poi nel 1986 il presidente della Colombia incaricò Martin di occuparsi della questione indiana. sapeva di dover cominciare dalle esigenze basilari. Ben presto capimmo che il primo passo da fare era riprenderci la terra. Cominciamo a lavorarci su e ci vollero più o meno vent'anni per riavere la terra. Cercammo di riprenderci tutta la parte orientale dell'Amazonia colombiana 20 milioni di ettari ora abbiamo 24 milioni di ettari l'equivalente del Regno Unito o della California. Dopodiché cominciamo a fare pressione sulle leggi esistenti persino a livello costituzionale non solo per il riconoscimento dei territori ma anche perché questi popoli avessero il diritto di governare i loro territori. Ora la Colombia è un esempio di eccellenza per la tutela dei diritti degli indiani. riconosce formalmente i popoli amazonici in quanto custodi e protettori di questo ambiente fondamentale. Con l'aiuto di Martin e della sua organizzazione la Gaia Amazon Foundation i Barasana e i loro vicini hanno sviluppato un loro sistema di istruzione. Combina il percorso di studi in spagnolo con gli insegnamenti tradizionali nelle loro lingue. Oltre all'istruzione l'attribuzione di un vasto territorio alle popolazioni del fiume è un fattore essenziale per la loro sopravvivenza e la salvaguardia delle tradizioni. La tenacia dei nativi unita all'appoggio di molti studiosi ha creato in Colombia delle buone condizioni per l'etnia indigene che sono quasi 100. Il governo colombiano riconosce la loro autonomia e ha creato 567 riserve che ricoprono 365 mila chilometri quadrati un territorio molto più basso dell'Italia. Uno degli aspetti più antichi delle culture indie è l'importanza della donna ed è proprio una donna che ci accompagna a vedere il centro sacro della loro religione. Il giorno dopo la nostra guida rosa aggiunge un altro tassello utile alla comprensione della struttura del mondo dei popoli del fiume. in cima alle sorgenti ci mostrerà come la natura contiene il macromondo dell'universo e il micromondo della maloga. Ripercorriamo ancora una volta i passi degli eroi mitologici i tuoni. Dopo qualche ora arriviamo a una cascata. qui ci dicono i tuoni si sono fermati per mangiare. Questi sono i segni lasciati dalle loro pentole che danno nome al luogo cascate delle pentole. È una fatica portare la canoa di alluminio sulle cascate di alluminio a di alluminio che si sono e sono qui sono qui si Sopra la cascata, il torrente si fa più stretto e siamo circondati da scogli e di rupi. Rosa ci dice che ora siamo al centro del mondo dei popoli del fiume. Per loro, queste scarpate sono i pilastri di una casa gigantesca, sostengono infatti il mondo. Siti sacri come questi costellano tutto il territorio dei popoli del fiume. Sono organizzati con una struttura ben precisa, una gigantesca maloca che rappresenta l'universo. Esiste una maloca che rappresenta l'universo, un luogo enorme dove tutti viviamo. E poi c'è la maloca dove fanno i rituali, le case dove vive la gente, che non sono nient'altro che un modellino dell'universo. È l'universo. Una riproduzione dell'universo, fatta dagli esseri umani per gestire l'universo. Raggiungiamo un altro sito fondamentale per il rituale del pane di manioca. È il dirupo dell'amido di manioca. Rosa dice che se il dirupo è bianco, va tutto bene. Se invece diventa scuro, non ci saranno più raccolti. E in tutto il mondo si diffonderà la carestia. Questo dirupo è l'anima di tutte le nostre donne. Le nostre anime bianche sono qui. Qui c'è la nostra essenza. Questo luogo è anche un pilastro della casa. Sostiene l'universo. E noi lavoriamo nella maloca. Questo dirupo è quindi anche un luogo della casa dove le donne lavorano la manioca. È un punto specifico sia dell'universo, sia della casa tribale, dove la popolazione vive e lavora oggi. Cominciamo a conoscere i legami che esistono tra il mondo ancestrale dei cosmos, il mondo naturale della foresta e dei fiumi e il mondo domestico del lavoro e della casa. Dopo più di una settimana sul fiume, alla fine arriviamo nel villaggio dove si terrà la danza del pane di manioca, Puerto Ortega. Il nostro ospite è Reynel, uno sciamano barasana, esperto di riti. Ha invitato tutti i suoi vicini ad assistere alla grande celebrazione. Vuole che le nostre telecamere raccontino la potenza della loro cerimonia più importante. È il più grande raduno dei popoli del fiume dopo molti anni. Nella sua maloca, le donne hanno già preparato una grande catasta di pane di manioca, la ricompensa della cerimonia. Per tenerlo al fresco, lo coprono con speciali foglie bianche. L'apertura del fagotto e la distribuzione del pane porrà fine alla danza. Un altro elemento fondamentale della cerimonia è la coca. Mentre raccolgono le foglie, Reynel insegna ai bambini alcuni canti tradizionali che sentiremo durante la danza. Mi spiega che la coca è una pianta sacra perché contiene l'essenza della vita. È una sostanza magica che lui usa in tutti i riti e nelle cerimonie di purificazione. Scopro che assumere coca allo stato naturale ha un effetto leggermente stimolante e piacevole. Smorza la fame e la fatica. Nel rito, che dura per due giorni e due notti, ha sia un valore sacro che pratico. Quando gli esploratori arrivarono per la prima volta alle sorgenti amazoniche, raccontarono di piccole comunità con uno stile di vita semplice. Non avevano compreso la complessità delle culture dell'Amazzonia nord-orientale. Quando gli antropologi impararono le loro lingue e presero parte ai loro riti, fecero scoperte straordinarie. L'insieme delle loro credenze era ricco e complesso. Sembravano più affini alle civiltà perdute dell'Amazzonia, piuttosto che alle semplici popolazioni descritte dai primi esploratori. Uno dei primi a rendere note queste scoperte fu Stephen Hugh Jones, il giovane antropologo del film La Guerra degli Dei. Ora è un signore, stimato dalla comunità, ma è anche il massimo esperto di riti barasana e il solo accademico che parla correntemente la loro lingua. Lui e Reynel saranno le nostre guide nella grande cerimonia che sta per svolgersi. ma per prepararci alla cerimonia dobbiamo visitare il sito più sacro della regione. Il giorno dopo, accompagnati da una guida, affrontiamo il viaggio. chiedo a Stephen come abbia fatto quest'antica cultura un tempo minacciata a sopravvivere. Quando abbiamo girato il documentario volevamo raccontare la scomparsa degli indiani a causa dei missionari. Il governo aveva detto loro di civilizzare gli indiani ed era quello che stava per succedere e invece sono scomparsi i missionari e non gli indiani. la loro cultura è ancora viva come possiamo vedere. Ma è rimasto qualcosa dell'antica civiltà amazonica nella loro cultura? Loro sono i cugini settentrionali delle civiltà che vivevano nel centro dell'Amazzonia. Sono gli eredi di quelle grandi civiltà. Le grandi concentrazioni di uomini che formavano delle comunità con dei leader nel centro dell'Amazzonia non esistono più ma loro sono ancora qui. i loro riti le loro tradizioni e le strutture dell'economia danno un po' l'idea di una civiltà perduta una civiltà che un tempo attraversava tutta l'Amazzonia. E il cuore di questa civiltà risiede nella relazione col mondo della natura. Attraverso il rito danno vita alla foresta e la foresta dà vita a loro. per loro l'intera foresta è un'entità vivente con cui dialogano come con i loro vicini di casa. Insomma fanno parte dello stesso sistema. La cerimonia si terrà tra qualche giorno. Reynel invoca gli spiriti che ci proteggeranno durante il viaggio verso la dimora del più grande eroe del popolo del fiume la madre terra. riusciamo a sentire il fragore di una cascata molto prima di vederla e quando la vediamo restiamo sopraffatti. ora siamo nella malocca dello sciamano donna Romi Kumu il creatore di tutte le cose. Qui ha dato alla luce i primi uomini e ha insegnato loro a danzare per lei. Tutti questi siti sacri sono stati creati da Romi Kumu va in tutti questi siti e li crea perché lei è la loro madre. Dietro la cascata c'è una grotta che contiene molti macigni e dietro c'è una pozza d'acqua ricoperta dalla vegetazione. Sembra quasi un mondo in miniatura. Reynel mi ha spiegato che la sua acqua è la più sacra del mondo. È l'acqua da cui è nata l'umanità. Questi massi sono le prime persone nella loro malocca. Questa è la figura del giaguaro guardiano. Intorno a lui ci sono gli invitati alla prima danza di Romi Kumu. Dall'altra parte ci sono i padroni di casa la gente di Romi Kumu. Salutano gli invitati è l'inizio della danza. Un momento mitico scolpito nella pietra. Sul suolo della caverna ci sono misteriose incisioni. Sono i motivi presenti all'esterno della maloca che i danzatori vedono quando assumono la pozione allucinogena lo yahe. Ecco il sonaglio dello sciamano. Questi petroglifi sono i comandamenti dello sciamano donna da seguire per la grande danza scritti proprio da lei. Romi Kumu è la creatrice e la proprietaria di questa dimora e lascia le sue impronte dovunque vada. Ecco, quella è la sua impronta. quella è impronta là. Ma per i popoli del fiume sono ben più della traccia di un antico evento. Per loro non ha senso parlare in termini di storia lineare. Credono che i due eventi si verifichino simultaneamente e di continuo. In altre parole non possiamo dire che quella cosa è successa e noi abbiamo imparato a farla e la ripetiamo in questo modo. Le due cose si verificano insieme letteralmente. Questo è un ottimo esempio perché questa abitazione è esistita all'inizio dei tempi ed eccoci qua. È proprio come il tempo del sogno australiano. È la stessa idea di tempo primordiale che coincide col nostro quotidiano. Durante i riti quando indossano le piume e tutto il resto il tempo collassa. Così il microspazio della casa diventa il macrospazio dell'universo. La gente comune diventa contemporaneamente un popolo antico. il tempo si appiattisce. Ora capisco che questi siti sacri non sono una commemorazione. Non sono simboli o rappresentazioni. Sono luoghi vivi che condizionano eternamente il presente. Abbiamo visto i comandamenti di Romi Kumu scolpiti nella roccia e assistito al potere dei siti sacri. la nostra preparazione per la grande celebrazione è completa. Quello della fine del mondo è un tema che ha sempre affascinato le culture sia quelle contemporanee sia quelle più antiche perché probabilmente ciò che polarizza l'attenzione dei contemporanei è proprio il fascino del futuro e la questione del tempo e della sua scansione. La prima fonte storica ad anticipare la fine del mondo è persiana. Secondo Zarathustra arriverà quando il male sarà annientato e le anime dei peccatori saranno riscattate dall'inferno. È la prova del fuoco la vittoria finale del bene sul male. Per gli hindu il mondo è solo uno di infiniti mondi che popolano il cosmo. Il dio Brahma crea l'universo che è poi distrutto dal dio Shiva in un ripetersi ciclico di creazione vita distruzione e rinnovamento. Quindi nella loro visione la fine del mondo non esiste. È una visione ciclica presente anche nei miti scandinavi. Un inverno di tre anni chiuderà la terra nella morsa del gelo. Due lupi divoreranno la luna e il sole e la terra sarà privata della luce. Le creature del caos attaccheranno il mondo e affronteranno gli dèi. Lo scontro sarà tremendo le forze si annienteranno a vicenda. Ma quando tutto sarà passato una nuova terra sorgerà dal mare una nuova generazione di uomini e dèi ripopolerà il pianeta. Dalla fine sorgerà un nuovo inizio. Le varie culture nelle varie epoche hanno immaginato modi diversi di scansionare il tempo hanno utilizzato diversi calendari e diverse cronologie per avvalersi di uno strumento che in qualche modo semplificasse la molteplicità dell'universo spazio-temporale e questo è stato fatto in due modi principali. Uno è tipico delle culture antiche ed è quello che riguarda la ciclicità del tempo ed è legato appunto ad una cultura materiale della terra del raccolto del ciclo delle stagioni e l'altro che è stato inaugurato fondamentalmente dal cristianesimo cioè dalla nascita di Cristo che rappresenta questa barriera da cui e prima di cui il tempo cambia è quella lineare ed è tipica delle culture occidentali. Nella religione islamica la fine dei tempi coinciderà invece con il giorno del giudizio. Quando sarà oscurato il sole le stelle si spegneranno e messe in marcia le montagne e ribollenti i mari e divise in gruppi le anime e scorticato il cielo e attizzata la fornace allora ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. Chi avrà seguito il Corano salirà in paradiso un'oasi lussureggiante e ricca d'acqua chi non l'avrà fatto sprofonderà all'inferno a subire ogni genere di sofferenza tra fiamme incendi e calderoni di rame fuso versato nelle gole degli assetati. Nel mondo cristiano molte sette e confessioni si sono dedicate anche a trovare una data per la fine del mondo che precederà il giudizio universale. Mille riti avventisti e testimoni di Geova hanno pensato di fissarla per il 1844 il 1914 il 1925 e il 1975. Lasciando da parte queste visioni mistiche la modernità ha fornito molte ipotesi fantascientifiche l'estinzione dell'umanità potrà avvenire dalla rivolta delle macchine da catastrofi ambientali irreversibili dal collasso delle società più avanzate per l'esaurimento di risorse naturali come il petrolio e l'acqua potabile dal cambiamento climatico o dalla caduta di un meteorite. Torniamo alla malocca di Reynel il giorno prima dell'inizio della danza. Tutti sono impegnati con gli ultimi preparativi. La routine quotidiana viene sospesa per due giorni. Durante la cerimonia le donne e i bambini potranno mangiare e dovranno dare da mangiare agli invitati. Ma non potranno lavorare per questo tutto il cibo deve essere preparato oggi. Durante i due giorni della cerimonia gli uomini invece non mangeranno. Le donne raccolgono la manioca e altri alimenti come la palma pesca e l'avocado e raggiungono un torrente per lavare e pulire il cibo. Tornate nella malocca di Reynel tutte le donne lavorano insieme per sbucciare le grandi scorte di manioca. La sorella di Reynel modella delicatamente la sua pagnotta di manioca. Questa è la donna che domani si trasformerà nella primordiale donna cassava. Nei nostri miti il primo essere fu una donna Romikumu esisteva prima che noi avessimo la manioca ha creato la malocca il cibo la procreazione e tutto quello che ha a che fare con i riti per questo le donne hanno un ruolo così importante. Durante la cerimonia solo gli uomini consumano i cibi degli spiriti coca tabacco sigari e tabacco da fiuto ciccia e l'allucinogeno lo yahè Reynel trascorrerà quasi tutto il tempo recitando formule magiche e incantesimi queste formule liberano i creatori dei copricapi di piume sono oggetti sacri la loro preparazione è un procedimento pericoloso nelle ultime due settimane ai due uomini non è stato permesso di lasciare la maloca né di mangiare carne o pesce né di vedere le mogli e i figli di fuori gli uomini preparano corone vivaci e ornamenti di piume da tenere in mano le danze sono divise in due tempi c'è la piccola danza che si svolge di giorno poi si cambiano gli ornamenti e si indossano le grandi corone di piume oggi balleranno l'umuabasa o danza dell'oropendola è per questo che servono queste corone di piume questa sorta di disco solare con raggi sono le piume della coda dell'uccello oropendola che è il tema della danza a qualche ora dall'inizio della danza la gente si trasforma con le decorazioni tutti gli uomini si fanno dipingere le gambe dalle donne con una tintura vegetale nera i motivi disegnati dalle donne sono gli stessi riportati sui panieri in questo modo i corpi diventano dei contenitori vuoti pronti per essere riempiti da sapere e dalla saggezza degli esseri ancestrali e del loro universo i primi invitati affollano il raduno dei popoli del fiume più grande degli ultimi anni rosa marine è accompagnata dal nipote e da molte altre persone di san miguel da dove abbiamo intrapreso il nostro viaggio dalle malocca vicine arriveranno altri invitati la danza la danza durerà per due giorni e due notti la casa è un microcosmo dell'universo ma nei ritmi dice steven diventa anche un corpo umano la casa rappresenta le ossa la paglia del tetto i capelli il suo cuore è una scatola sospesa al centro della costruzione contiene i copricapi di piume sacri ora è chiusa e addormentata quando viene portata giù e aperta si sveglia e trasforma i danzatori sono le cinque non è ancora l'alba la danza ha inizio la piccola danza parte prima dell'alba ed è fatta più che altro per la nostra felicità a quest'ora l'aria che si respira nella maloca non è molto seria è il momento in cui le donne i bambini tutti dovrebbero essere contenti così ci prepariamo per entrare in uno stato molto più religioso è come se intrecciassimo una rete protettiva per la grande danza molto più seria e profonda steven mi dice che le corone dei danzatori trasformano trasformano la loro testa in un sole le piume sono i raggi che risplendono la struttura della danza rispecchia le costellazioni che si muovono nei cieli anche se lo spirito è ancora spensierato con i suoi canti Reynel comincia a portare i danzatori nel tempo ancestrale li sta preparando per eventi molto più impegnativi e sacri è mezzanotte è il momento di togliere le corone gialle e indossare i ricchi copricapi le piume degli antenati la piccola danza è finita comincia la grande danza sacra la scatola di piume il cuore della maloca viene aperta quando aprono la scatola di piume funziona come una macchina del tempo perché mettersi le piume significa che il grande spazio dell'universo è il piccolo spazio della casa e lo spazio dei corpi dei danzatori diventano una cosa sola ora i danzatori prendono l'allucinogeno sacro lo Yahe trasforma completamente le loro coscienze e le fa entrare nel mondo primordiale dei progenitori mentre cominciano il viaggio i disegni danzano davanti ai loro occhi questo momento merita grande rispetto prendiamo lo Yahe e pensiamo al mondo intero ai siti sacri alle origini del nostro pensiero e alle nostre danze questa è la fase più sacra mentre danziamo e cantiamo viviamo in un altro mondo e questo mondo è dentro la nostra malocca anche quelli che non danzano vedono gli antenati che si muovono dentro i danzatori lo spirito di ognuno viene assorbito dalla manifestazione degli antenati ora capisco perché abbiamo dovuto fare tutti quei viaggi ci hanno rivelato i sentieri che i danzatori seguono nel tempo primordiale viaggiano controcorrente visitano tutti i siti sacri vedono le cascate più significative le cataratte e le montagne rivivono le avventure degli eroi mitologici quando entrano nel loro fiume il Pira Paranà si avvicinano alle cascate del pane di Cassava qui la roccia si anima con la comparsa della donna Cassava è l'anima delle donne la creatrice della vita il suo canto si fa strada nel ritmo della danza col fragore delle acque del fiume che scorrono intorno a lei il viaggio tra danza e canto continua per tutta la norte fino all'alba la sera del secondo giorno 40 ore dopo l'inizio il grande incantesimo ha tessuto la sua trama e la danza rituale è completa in tutti i miei viaggi non ho mai avvertito la presenza del sacro con una forza maggiore di questa ora capisco come i popoli del fiume durante le cerimonie sacre intrecciano le molteplici dimensioni del loro mondo in una sola catena di energia in questo modo rivivono il dramma del viaggio ancestrale controcorrente e danno una forza autentica ai siti sacri i loro rituali rafforzano i pilastri della casa che sostengono non solo la casa stessa ma l'intero universo e la loro forza protegge le persone dalla malattia e dalla disgrazia il mondo umano naturale e spirituale sono una cosa sola il rispetto per il mondo della natura rende onore agli antenati e protegge le creature viventi questo è il messaggio della civiltà perduta dell'amazzonia un messaggio ereditato dai barasana e dagli altri popoli del fiume da secoli sono i custodi di queste foreste pluviali e hanno tutte le ragioni per esserlo anche in futuro grazie a tutti Grazie.